Kit Collection, un kit per chi fa l'analisi del colore, la consulenza professionale e personalizzata. È un kit diviso in quattro stagioni e poi ogni stagione ha la sua targhetta di riferimento e ha la One Direction. Ogni famiglia cromatica alla sua volta è diviso per caratteristica, anche dominante cromatica. E sono 18 colori per ogni famiglia cromatica, sono 72 colori. Questo è il kit collection.